Il nodo scuola è stato sciolto ieri mattina dal sindaco di Ribera Matteo Ruvolo che ha firmato l'ordinanza di proroga della didattica a distanza per tutte le scuole dall'infanzia alle superiori fino a giovedì 22 aprile, giorno di scadenza della zona rossa che è ormai in vigore dal 9 aprile scorso. E' prevalsa la linea della prudenza ma l'ordinanza firmata dal sindaco è stata supportata da un parere favorevole in tal senso chiesto ed ottenuto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Aspe di Agrigento. La questione scuola ha animato non poco il dibattito in città alla richiesta di una ventina di genitori di far riprendere le elezioni in presenza almeno fino alla prima media così come prevede il decreto legge del governo Draghi anche in zona rossa. Ha fatto seguito infatti la presa di posizione di circa 250 famiglie di alunni che frequentano alcune scuole riberesi, Navarro, Crispi ed Ombosco diametralmente opposta. Spinti da quella che non hanno esitato a definire la paura e l'incremento dei contagi hanno chiesto la conferma della didattica a distanza almeno fino a giovedì data di scadenza della zona rossa facendo notare come siano stati gli stessi dirigenti scolastici nonché i sindaci a manifestare perplessità sulla sicurezza delle scuole anche alla luce delle varianti del virus. Pur precisando di credere fortemente nel valore delle elezioni in presenza avevano evidenziato anche che purtroppo i bambini inconsapevolmente diventano veicoli di contagio del virus dalle famiglie alla scuola e dalla scuola alle famiglie. È prevalsa dunque questa linea posto che le elezioni in presenza avrebbero dovuto riprendere giusto questa mattina. Intanto fino a giovedì 22 aprile saranno giorni di attesa e particolarmente importanti per capire, dati alla mano, se la zona rossa cesserà a ribera oppure se sarà necessario un'ulteriore proroga. Al momento quest'ultima ipotesi appare quella meno probabile alla luce anche delle oltre 20 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore ma soprattutto del numero dei nuovi positivi che non ha subito un'impennata. Non sarò io a decidere, commenta oggi il sindaco Ruvolo, ma saranno i dati del contagio registrati dal Dipartimento dell'Asp e in base ai quali spetterà poi al Presidente della Regione assumere l'eventuale ulteriore provvedimento di proroga della zona rossa. In caso contrario da venerdì 23 aprile Ribera parserà in zona arancione.